salve salve a tutti bentornati sul canale di benchmark ct oggi parliamo di mining non facciamo un tutorial lungo di quelli di mezz'ora che rompono i coglioni fai questo fai quello meglio fare questo meglio fare quell'altro partiamo dal presupposto che se uno vuole minare seriamente parte da usare un sistema linux e sistemi asic noi non abbiamo né l'uno né l'altro facciamo finta che nel mondo esista soltanto il computer gaming ok perché di quello che ci vogliamo di quello che vogliamo parlare in questo video se abbiamo un computer gaming con una scheda grafica diciamo invidia 1060 superiore mdrx 580 o superiore quindi almeno 6 giga di memoria dedicati almeno possiamo effettuare mining e guadagnare almeno totale di 10 20 euro anche senza farlo 24 ore al giorno al mese come possiamo fare questo tenendo conto che comunque queste schede grafiche la mia 60 e la 580 consumano incredibilmente poco parlo ovviamente del costo in bolletta soltanto di quello che fa la nostra scheda grafica allora voi state vedendo adesso un sito web nice hash dove già posso sentire i commenti su youtube no ma nice hash non è un vero e proprio mining noi innanzitutto vogliamo fare mining in semplicità quindi niente cose complicate nice hash è un rental service sostanzialmente voi non scaricate tutta la blockchain del bitcoin non dovete neanche sapere che cos'è lui vi dà un software che adesso vedremo e vi consiglia di registrarvi è praticamente obbligatorio registrarvi altrimenti non avete il wallet e non avete niente quindi partite da una registrazione sul sito di nice hash una registrazione che richiede la classica autenticazione nella mail insomma fate le solite cose e lui vi presenterà con un'interfaccia del sito abbastanza basilare semplice avete il vostro account potrete cliccare su wallet e vi darà un indirizzo di un portafoglio virtuale quello ve lo salvate fate un copia comunque ce l'avete sempre sul vostro account l'unica cosa da fare è scaricare il quick miner il quick miner che in realtà è un software rino una cosa davvero semplice in questo caso si scarica dal sito facendo tra i mining now in questo caso ve lo indica qui ve lo fa scaricare attenzione però c'è un passaggio da fare qui siccome tutti i tipi di miner sono individuati da windows come dei falsi positivi perché windows ovviamente cerca di proteggervi da dai virus che sfruttano algoritmi di mining in questo caso non sono virus ma sono dei software per privati per minare per fare soldi per voi stessi non per altre persone voi dovete andare in windows defender e dovete temporaneamente disattivare la protezione real time in alternativa indicate una cartella di esclusione per esempio facciamo si gestiscono le impostazioni no queste sono le impostazioni windows defender aggiungi un'esclusione come potete vedere io già l'ho aggiunto quindi voi create una cartella la chiamate mining e l'aggiungete come esclusione e ci installate dentro il software quindi in questo caso voi fate partire il software eccolo lui in questo momento già sa che io ho un account già sa che sul mio computer è già installato da voi farà una serie di passaggi vi chiederà dove vuoi installare il software eccetera eccetera nel mio caso già sta per partire sarete presentati con questa interfaccia a comando la linea di comando non serve a niente non voi non interessa sapere niente di questa interfaccia lui partirà e vedete tutta una serie di dati qui in fondo non chiudete ovviamente quando state scavando minandolo abbassate e sulla pagina web troverete tutti i dati in questo caso potete vedere qui tutta una serie di dati che si è chiuso giustamente si è chiuso perché io ho chiuso il software quindi non fate questo errore ovviamente non sono loggato quindi non sta partendo e non sta scavando però voi potrete vedere quanti m bitcoin state facendo al giorno con la vostra scheda video ovviamente questo non è una valuta effettiva voi state accumulando questa parte infinitesimale di bitcoin sul vostro account una volta raggiunti 20 euro potete prelevarli tramite un trasferimento di fondi adesso vedremo anche come si fa quello quindi prima parte del tutorial è semplicissimo andate su nicehash.com scaricate il software quickminer ricordatevi di disabilitare l'antivirus e di aggiungere come esclusione la cartella di nicehash quickminer come per esempio qui aggiungi esclusione cartella e lo selezionate successivamente lo fate partire lui incomincerà a chiedervi il wallet quello di cui parlavamo prima un indirizzo del wallet che è una stringa di testo che vi darà il vostro account di nicehash che trovate qui in alto a destra lo copiate lo mettete nel software e il software parte a quel punto poi vedrete questa interfaccia sul web che vi dirà quanto state facendo all'ora oppure al giorno o al mese in base a quello che scegliete voi in euro un'altra raggiunti 20 euro cosa facciamo allora ci sarà un polsante withdraw cioè ritira qui sopra in alto a destra dove vedete il puntatore del mouse come si fa a ritirare dovete collegare un account coinbase allora l'account coinbase ovviamente qui vi dovete registrare l'account coinbase che cos'è è un mercato di criptovalute quindi qui voi potete comprare criptovalute ma anche venderle allora una volta fatto un account coinbase vi verrà indicato la possibilità qui su nicehash di collegarlo allora fate collega il mio coinbase ti farà fare un account coinbase da nicehash e a quel punto gli account saranno linkati una volta linkati gli account dovete andare su coinbase e inserire il vostro paypal quindi mettete un paypal insomma quello che volete e da lì potrete ricevere i soldi quindi fondamentalmente quando qui su nicehash fate withdraw, ritira lui vi scala una quantità che volete dei vostri bitcoin infinitesimali che si chiama satoshi voi li portate sul vostro account di coinbase facendo ritira e poi li vedrete qui in formato euro da qui poi potrete fare ritira su paypal e i soldi arrivano su paypal la cifra minima da ritirare è 20 euro che per una RTX 2060 che è quella che sto usando come vedete qui ha impiegato circa due settimane di forse 3-4 ore in media al giorno forse ma anche di meno in alcuni giorni quindi questa è la parte di mining ovviamente è semplicissimo se avete qualsiasi domanda la potete scrivere nei commenti ovviamente non posso adesso farvi vedere tutte le interfacce eccetera perché richiedere di loggare nell'account ci sono dei dati privati che vengono esposti nella home page del vostro account quindi mi raccomando se fate l'account non postate gli screenshot in rete della vostra home page principale di nicehash perché ci sono dati privati vostri e vostri soltanto quindi non condivideteli con nessuno adesso vediamo afterburner e come impostare la scheda grafica per finire il tutorial allora questo è il registratore allora come impostiamo la scheda video per minare? non minate senza aver fatto questo passaggio scaricate afterburner dopodiché verrete accolti da questa interfaccia questa interfaccia è semplicissima voi non dovete fare nient'altro che scorrere il power limit della vostra scheda video da 100 al minimo nel mio caso è 73 nel vostro caso può essere 50 buttatelo a 50 vedrete che calerà anche la temperature limit ora uno potrebbe pensare ma se io ridico questi settaggi non faccio meno prestazioni in mining? falso perché in questo modo riduciamo il consumo elettrico della scheda grafica e la temperatura massima che non potrà mai superare quella indicata dal software ed è fantastico perché questo prolunga la vita della scheda grafica di tantissimo ma non perdiamo prestazioni di mining perché noi facciamo in contemporanea un overclock della memoria video ora non sto qui a spiegarvi come funziona la blockchain ma in termini pasta asciutta in termini semplici l'algoritmo che scava immagazzina nella memoria della vostra scheda video i dati temporaneamente più veloce la memoria più lui riesce ad andare avanti nella blockchain adesso se noi overclockiamo la memoria non facciamo niente di rischioso aumentiamo di un pochissimo il consumo della scheda video ma l'abbiamo già ridotto in questo caso del 27% e non aumentiamo le temperature in questo caso voi minerete anche 24 ore al giorno la scheda grafica non supera mai i 65 gradi quindi fate questo passaggio buttate il consumo energetico al minimo overclockate le memorie allora se siete su schede grafiche AMD non superate i 300 MHz di overclock in memoria a meno che non sapete quello che state facendo non andate oltre se siete su schede grafiche Nvidia 1060 o più 9 potete comodamente andare su più 900 nel mio caso 1100 perché io ho testato fin dove è stabile ma 900 è diciamo un valore mondiale per le schede grafiche Nvidia 1060 o più 9 quindi più 900 è sicuro cliccate sulla spunta salvate il profilo in questo caso 1 e 2 a me sono già impegnati da altri profili scegliete un profilo questo sono 5 cosa dovete fare di più? lo ricliccate lo riapplicate andate nelle impostazioni afterburner settate la ventola con controllo automatico e cliccherete su applica qui sotto poi in generale dovete spuntare avvia con Windows e avvia ridotto ad icona così non vi dovete mai più preoccupare di questo software poi se dovete fare gaming perché qui stiamo parlando di computer da gaming per fare qualche euro da parte quindi non sono computer da mining vi create appositamente un profilo aggiuntivo per il gaming nel mio caso eccolo qui power limit a 100 il core clock è persino overclockato per usare i giochi eccetera e lo riapplicate semplicemente così quindi per tornare al mining tornate sul boss e spuntate tutto qui sì tutto qui cioè è letteralmente finito e avrete un tot di soldi da parte che saranno comunque pochi perché non è un computer da mining ma sono comunque un tot di soldi da parte e soprattutto è del tutto sicuro anche questo nice hash quick miner che vedete qui è del tutto sicuro questo quick miner poi su internet potrete trovarne una marea non stiamo qui a parlare questo è un rental service voi non state effettivamente scandalo boss lo so ma questo è un tutorial per indirizzare chi ha un computer da gaming magari lavora non se ne fa niente 8 ore al giorno 10 ore al giorno il computer è spento voi potete comodamente in quelle ore lasciare la vostra scheda video in un consumo energetico ridicolo temperature bassissime a lavorare e a fare diciamo 20-30 euro al mese voi se avete una 2080 ti una 3070 una 3080 una 3090 fate molto di più e chiudo il video dicendo che in una 3080 ci sono circa di profitto 250 euro al mese adesso e il bitcoin sta salendo quindi fate prima e fate meglio chi fa prima fa meglio e con questo video tutorial finisce spero di non essere stato troppo lungo se c'è qualche problema ripeto commenti rispondo tutti e sì insomma lasciate un like se vi è piaciuto un dislike se non vi è piaciuto ma indicate anche perché nei commenti e se volete vedere altri video di mining magari su linux magari con una qualche spiegazione su altri software che sempre commentate e chiedete li posso sempre fare insomma quindi arrivederci di invention arc city e state state al sicuro mi raccomando